Sorgenia intende assumere 20 ragazzi neolaureati, che rappresentano il 10% dei miei colleghi, da inserire in società entro la fine dell'anno. Perché Millennials? Perché ci aspettiamo che ci portino l'entusiasmo dei ragazzi, ma anche le loro competenze digitali e una visione del mondo nuova. Offriremo delle opportunità di crescita importanti in una struttura piatta, flessibile, orientata molto e focalizzata sull'innovazione e meritocrazia. Intendiamo premiare quelli bravi, farli crescere in tempi anche rapidi, inserendoli in progetti strategici e facendoli crescere in termini di responsabilità. Nella fase di assunzione lo faremo in modo totalmente innovativo. Useremo una modalità che chiamiamo Gaming. In pratica noi su 60 ragazzi che passeranno il primo screening, li faremo giocare per una giornata intera in tavoli da 10 e andremo a caratterizzare le loro soft skills e in particolare la loro capacità di innovazione. la capacità di lavorare in gruppo, la loro flessibilità, il pensiero critico, che per noi sono elementi fondamentali per la crescita in un mercato competitivo e nuovo che si sta rinnovando dell'energia in cui Sorgenia vuole essere protagonista.